Massimo Pallisano, studente di quinto anno del Salvemini, perché scegliere il Salvemini? Il Salvemini è una scuola molto attrezzata, infatti qui ci troviamo nel laboratorio di chimica che è stato rinnovato da poco tempo e sono stati aggiunti delle strumentazioni particolarmente utili allo studio. Il Salvemini è una scuola che dà tante possibilità, infatti ci sono parecchi corsi. A quei ragazzi puoi iscriversi che gli danno la possibilità di formarsi a tutto tondo e insomma di perseguire i propri interessi, nonostante la scuola sia effettivamente un liceo scientifico, quindi i vari programmi spaziano nei vari campi. Come vi state trovando con il nuovo metodo? Allora è stato particolare all'inizio, quindi le prime settimane, giusto per abituarsi, le abbiamo passate con le piantine in mano, insomma a guardare i vari cartelli che sono stati posti fuori dalle aule. Insomma dopo questo smarrimento iniziale ci stiamo trovando veramente in modo ottimo, anche perché dà una possibilità di confronto con gli altri alunni che magari prima non si vedevano durante il corso della giornata, quindi ci sono vari incontri nei corridoi, c'è la possibilità di parlare con più persone. Tra l'altro è anche un momento di svago, quindi le varie ore vengono affrontate in modo più leggero.